Sì Senti, abbiamo detto, stiamo parlando appunto di serie televisive, ti abbiamo avuto ospite anche per un'altra serie televisiva l'anno scorso. Ti trovi molto bene, ti piace molto lavorare sulle serie televisive. È una costante di ultimi anni, parallelamente alla tua carriera cinematografica. È bellissima in tutto. Senti parrucchi. Senti. Invece adesso ci sono stati grandi racconti, di serie televisive che resteranno appunto nella, diciamo insomma uno si dimentica. Chiaramente con tutta questa offerta non tutto è bellissimo, ma vale, vale, vale. Cosa? Bisogna sempre scegliere. E basta ascoltare Silvia, ma basta ascoltare Silvia, ma basta con una sceglia. Del resto è quello che stiamo dicendo adesso. Scusiamo però, è la motivazione del filmato anche il programma con il Silvia.